cari amici dopo archiloco e semonide un altro lirico greco sempre di età arcaica però non un giambografo come i precedenti due bensì un poeta elegiaco mimnermo di colofone colofone colonia ionica d'asia minore sulle coste dell'attuale turchia oggi ne restano solo dei ruderi come per la maggior parte della letteratura arcaica anche di questo autore ci restano pochi frammenti anzi pochissimi e nulla di completo ho già qui pronto davanti a me qualche verso da leggere e commentare insieme tra poco un vero peccato perché questo autore nell'antichità era davvero molto conosciuto e apprezzato con versi dolcissimi intensi puri egli introdusse per la prima volta in poesia temi che sarebbero diventati eterni visitati e rivisitati nei secoli e nelle letterature avvenire il tema della vecchiaia come disvalore l'antitesi vecchiezza giovinezza la nostalgia dell'amore provato e ormai irripetibile il senso della giovinezza perduta e della caducità della vita tematiche in realtà non nuove nella cultura greca antica alcune di queste le troviamo già accennate nei poemi omerici ma mai sentite in maniera così radicale e sofferta ecco ma incominciamo con pochissime parole giusto per inquadrare storicamente l'autore abbiamo detto età arcaica visse nella seconda metà del settimo secolo 630 640 le date precise per questi poeti antichi spesso ci mancano per assenza di fonti ma insomma l'importante è avere chiara la periodizzazione generale di lui ci restano l'abbiamo già detto solo pochi frammenti e tutti di pochi versi ma sembra che in età ellenistica callimaco potesse ancora leggere di lui un una raccolta di poesie un liber intitolato nanno il nome della donna amata e anche una smirneide cioè un poemetto ma non in esametri come ci si aspetterebbe bensì un elegia narrativa in distici sulla guerra sulla lotta degli abitanti di smirne contro gige re di via ecco appena nominato l'elegia e il distico i primi due aspetti importanti che dobbiamo chiarire parlando di mimner insieme al giambo l'elegia era un genere della lirica monodica recitativa vi sto mostrando la tabella che è usato nel video sulla lirica greca in generale quindi lirica monodica recitativa cioè accompagnata da musica a grado ridotto ora non posso soffermarmi a ripetere questioni che vi ho già illustrato nel video che vi ho citato ma mi raccomando se non vi suonano familiari vi consiglio di ascoltarlo è il primo della playlist di letteratura greca diametralmente opposta al giambo che era il genere dell'invettiva della satira denigratoria l'elegia era invece originariamente un canto di lamento accompagnato dall'aulos dal flauto pare infatti che il termine greco elegos venga proprio dal frigio elegn flauto appunto in realtà non tutte le elegie sono poi canti lamentosi esiste anche l'elegia contenuto politico ricordate per esempio la famosa elegia per salamina di solone oppure l'elegia guerresca di tirteo no l'elegia di esortazione e anche di mimnermo abbiamo frammenti di elegie politiche però diciamo che tendenzialmente l'elegia ha mantenuto avrebbe mantenuto il suo carattere di canto melanconico e così sarebbe stata anche interpretata dai poeti latini che l'avrebbero ripresa in età imperiale in particolare tibullo e properzi bene elegia è dunque il genere letterario il genere lirico ma in che forma metrica questo genere si presenta mi raccomando scindete sempre il genere letterario dalla forma metrica si presenta nella forma del distico elegiaco appunto un verso importantissimo perché farà molta strada fino al novecento che cos'è il distico elegiaco lo dice il nome dis sticos due volte verso quindi verso doppio il distico elegiaco è una coppia diversi il primo esametro d'attilico e il secondo pentametro d'attilico gabriele d'annunzio questa chicca ve la devo proprio dire ha dato del distico elegiaco una definizione meravigliosa vipere alate in amore solo quel genio di d'annunzio poteva trovare un'immagine una metafora simile e infatti se osservate i distici in un componimento poetico li riconoscete subito perché si vede proprio che si muovono a coppie ecco quello che vi sto mostrando è una elegia di mimnermo e vedete che i versi sono accoppiati uno lungo uno corto uno lungo e uno corto quello più lungo è l'esametro e quello più corto è il pentametro in realtà ci sono anche edizioni in cui l'editore separa i distici attraverso l'interlinea doppia come per esempio questa edizione e in audi del cantonovo di d'annunzio appunto questi vedete sono distici e legiaci e si riconoscono chiaramente grazie all'interlinea bene abbiamo detto genere letterario forma metrica e adesso andiamo al contenuto la cosa più interessante di cosa parlano le elegie di mimnermo con questo poeta si introduce una tematica importante la vecchiaia come disvalore l'idea in realtà non era nuova nella cultura greca ve l'ho già detto all'inizio infatti se leggiamo alcuni passi omerici ma anche esiodo quindi l'epica più antica vediamo che emerge una concezione negativa della vecchiaia come condanna imposta dagli dèi agli uomini mimnermo però estremizza radicalizza tale concezione e ne fa oggetto per quello che ne sappiamo di una sua personalissima visione pessimistica dell'esistenza in particolare dai frammenti che ci sono rimasti sembra che mimnermo fosse ossessionato per così dire dalla antitesi vecchiezza giovinezza e descrive la prima unicamente come privazione dei valori positivi della seconda energia vitale salute e soprattutto la bellezza del corpo e la possibilità di godere appieno del piacere erotico ne parla nel suo frammento più famoso lo trovate intitolato in diversi modi nelle antologie ma ricordate i titoli sono tutti posticci è comunque il frammento che incomincia così tiste bios ti deterp non ater cruises afrodite quale vita quale gioia senza laurea afrodite e qui chiaramente afrodite è metonimia in quanto dea dell'amore e della bellezza quindi il verso sta a significare insomma quanto è triste la vita senza l'amore è significativa a questo proposito la traduzione che ne ha data un po romantica il poeta tedesco dell'ottocento gottfried herda che non a caso ha intitolato il frammento jugend un alta giovinezza e vecchiezza o ne libe vas ist menschenleben unta alla sonne vas ist suces o ne di o libe ma andiamo avanti con il testo salto al verso 5 o di un erone pelte i geras è terribile dolorosa sopraggiunge geras la vecchiaia che rende l'uomo tite iandra che rende l'uomo odioso e brutto verso 8 non si rallegra terpeta e non si rallegra guardando ammirando i raggi del sole ma ectros paisin odiato ai giovanotti e scherno per le donne così volle funesta la vecchiaia un dio vedete l'ultimo verso ribadisce il concetto già omerico che un dio volle la vecchiaia così essa è un brutto regalo degli dei eterni agli uomini è piena di mali angosciosa ma soprattutto nessuno desidera più un vecchio per godere con lui le gioie dell'amore né un bel giovanotto né una donna e neanche i raggi del sole riescono più ad accendere in lui un briciolo di gioia sì perché all'ideale eroico è opposto il piacere dell'amore una concezione non più aristocratica ma borghese che coincise con l'affermarsi proprio nella seconda metà del settimo secolo della borghesia mercantile nelle città dell'asia minore e con la incipiente crisi dei valori eroici ricchezza forza gloria i valori degli eroi omerici lasciano il posto ad un'idea della vita più consona alla caduca natura dell'essere umano analoga visione della vecchiaia come male assoluto è espressa in un altro famoso frammento in cui mimnermo cita il mito di titone e aurora la bella dea si innamora del bellissimo giovane figlio di laome edonte e va da zeus a chiedere per lui il dono dell'immortalità in modo da poterselo godere per sempre ma fatalmente si dimentica di chiedergli anche il dono dell'eterna giovinezza e così appassito a tempo debito il fiore del bellissimo ragazzo la povera aurora si trova a dover convivere con un marito ormai vecchio repellente e impotente così ci narra l'inno omerico ad afrodite un testo epico a tratti di uno humor straordinario magari un giorno vi racconterò quale soluzione trova la bella aurora per liberarsi di quel catapalasma di suo marito noi però adesso andiamo al frammento di mimnermo attitone zeus diede da sopportare male infinito la vecchiaia è vecchiaia gherasca con aftiton male senza fine come un sogno è effimera la preziosa giovinezza vedete l'idea della giovinezza della caducità della giovinezza che subito scompare dolorosa e deforme presto incombe sul capo la vecchiaia che rende l'uomo odioso e disprezzato irriconoscibile e avvolgendolo ne deturpa lo sguardo e il pensiero perché lo rende lo rende difettoso nel vedere e poco lucido quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia è un tema caro a molti poeti tanto antichi quanto moderni leopardi orazio ne cito soltanto due a partire proprio da mimnermo e c'è un altro suo frammento molto noto di solito si trova anche questo in tutte le antologie scolastiche in cui il poeta a partire da una similitudine omerica paragona la vita dell'uomo al destino delle foglie siamo come le foglie nate alla stagione florida crescono così rapide al sole godiamo per un gramo tempo i fiori dell'età dagli dei non sapendo il bene e il male trafitto da un raggio di sole ed è subito sera non è altro che questo il senso di di questi versi e mimnermo è talmente radicale in questa sua concezione della vita che ne fa derivare il corollario estremo meglio morire prima piuttosto che arrivare a vivere questa brutta vecchiaia e in un famosissimo frammento anche questo di solito è presente in tutte le antologie scolastiche ci dice anche quando vorrebbe morire a 60 anni o lontano da morbi e da funeste angosce sessantenne mi colga il di fatale gli rispose però solone di atene il vecchio saggio con un altro noto distico ma se anche adesso mi dai ancora ascolto togli questo verso e cambialo canta invece così ottantenne mi colga il di fatale bene concezioni diverse della vecchiaia e soprattutto concezioni diverse di vita inutile chiedersi chi dei due poeti abbia ragione e a che età sia meglio morire noi che viviamo 2500 anni dopo mimnermo abbiamo conosciuto culture e filoni di pensiero che valorizzano i pregi della vecchiaia la cultura latina è tra queste pensate solo a cicerone e seneca per i romani e per molti altri la vecchiaia è autorevolezza esperienza prestigio sociale io però preferisco concludere questa video lezione con il nostro leopardi a cui peraltro mimnermo piaceva moltissimo ultimo canto di saffo ma la vita mortal poiché la bella giovinezza sparì non si colora d'altra luce giammai né d'altra aurora vedova è in sino al fine e dalla notte che l'altra età di oscura segno posergli dei la sepoltura grazie a tutti